Ciao a tutti amici di Tom's, siamo nuovamente qui al CS 2020, questa volta per mostrarvi un prodotto decisamente interessante. Si tratta di questo DNA Band di DNA Nuge, un braccialetto disponibile attualmente solo nel mercato inglese che presto sarà disponibile anche nel mercato statunitense e in quello europeo generalista. Si tratta appunto di un braccialetto che permette di valutare cibi o cosmetici attraverso il nostro DNA. Come funziona? Ve lo spiego in maniera abbastanza semplice. Abbiamo una macchina, anzi un dispositivo prima in cui possiamo inserire un contonfiocco con la nostra saliva, comunque il nostro DNA, all'interno di questo piccolo dispositivo che poi viene inserito in questa macchinetta che rileva il nostro DNA. La macchinetta poi porta il segnale attraverso un'applicazione sul telefono, il DNA, su questo nostro braccialetto qua e da allora con questo braccialetto possiamo scannerizzare i barcode di un cibo piuttosto che di un cosmetico e dall'applicazione ci spiega se quel cibo o quel particolare cosmetico può essere adatto al nostro corpo. Quindi è una cosa abbastanza interessante. Da questo punto di vista con questo DNA Band è possibile poi comunque creare delle diete personalizzate piuttosto che evitare certi tipi di cosmetici che possono darci qualche fastidio e altre cose legate sempre riguardante la vita quotidiana. C'è da dire che comunque non sappiamo effettivamente quanto possa essere efficiente su tutti i punti di vista ma risulta comunque un prodotto molto interessante qui al CS 2020.